Questo è un piccolo video realizzato all'isola di Sant'Antioco per il contesto internazionale 50mg che abbiamo fatto a giugno con i K2 UVT e i K2 DUV. Siamo sull'isola, su una parte alta dell'isola. Abbiamo montato un po' tutta l'attrezzatura, il lavoro era tanto perché per pochi che eravamo le antenne erano tante. Abbiamo montato una cubica, 6 elementi, una 5 elementi in polarizzazione verticale che vedete adesso e una delta loop, 6 elementi. Abbiamo fatto CH600 QSO, ottima la propagazione, direi veramente eccezionale. Del resto favoriti anche dal periodo buono per la propagazione in 6 metri. L'apparecchiatura è un TS60 e abbiamo fatto man bassa di questo. È veramente un'ottima propagazione che ci ha consentito di mettere a log veramente tante stazioni. L'appuntamento è per il prossimo anno. Si ringrazia la sezione Ari di Carbonia che ha collaborato con un prezioso aiuto logistico. e non e naturalmente gli OM che sono intervenuti. Noi faremo sicuramente ancora molte altre attività. Nel prossimo anno penso che ritorneremo ancora nella stessa postazione. Speriamo naturalmente, la speranza è sempre quella di migliorare il risultato dell'anno prima, no? E naturalmente si dovrà migliorare anche i mezzi a disposizione. Bene, io vi ringrazio e vi lascio alla parte audio del filmato che riguarda appunto le stazioni collegate. Saluti qui in K2 di UV. Alfa Papa Alfa Papa 39 319 319 in Japan Mary 48 Ecco X-ray, roger Ecco X-ray, eh, thank you very much QSL Contes B4 is QSL is 3 day, roger Ah ok, no problem, thank you. QAZ Italy Mexico Zero Stroke Italy Kilo 2 Delta Unite Victoria Ecco Unifor 24 Roger Sugar Palette Raid X-ray X-ray November You're 59 320 In Julian Mexico 48 ECO X-ray Give me, over 5-3 November 25, Foxtron United Shell Air 5-3, go ahead Sugar 5-3 November, it's not QSL before, over Roger 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 Julian Nsi 75 Julian Nsi 75 Julian Nsi 75, it's ok? Bello Ok, thank you QAZ purtroppo la propagazione non è che sia tanto buona anzi è un po scarsa ok sono i delta questi qui vediamo l'emiliano che sta andando in a reti di greca emiliano nominativo s 0 bravo romeo quebec perfetto che non lo ricordo